Un'ottima risposta del pubblico reggino per l'esordio casalingo della Palacanesto Viola. Nonostante l'assenza di Tirti Shnick agli ultimi dettagli del suo tesseramento, Reggio gioca una cara tutta grinta e passione contro una delle squadre maggiormente accreditate per la vittoria del campionato, l'Orlandina Basket dell'ex Domenico Bolignano, un match che si è caratterizzato da un forte equilibrio. I locali devono preservare la condizione falli di Thomas Binelli, l'Orlandina perde per infortunio Giulio Mascherpa, La partita sembra una sfida a scacchi guidata dalle rispettive panchine, piccoli mini break da un lato e dall'altro. L'Orlandina prova ad allungare nel punteggio grazie alla maestria di Palermo, coach Cicherini azzecca la mossa, rischia Capitan Binelli e trova la risposta giusta, due canestri da tre ed un assist che fanno esplodere l'impianto reggino. La palla canestro viola chiude sul più sei all'intervallo lungo, alla rientro però. L'Orlandina parte con un piglio diverso facendo leva su Gatti, Iasaitis e ancora Palermo. La carta in più è Vittorio Maltrasio, ma si gioca sempre sul filo dei 3-5 punti, massimo cap tra le due squadre. I nero-arancio reagiscono con grinta, l'uomo in evidenza è uno scatenato in Ario Simonetti. Senza paura, le due squadre si ritrovano a giocare un finale dove vince chi sbaglia meno. Le triple paladine di Marini e di Gatti per due volte sono decisive. Reggio Calabria perde, ma appena 64-67, mostrando un atteggiamento mai arrendevole, recuperando fino in fondo e mollando solo nel finale. Un bel messaggio alla città che ha risposto presente e può diventare ancora più importante per un campionato che è solo all'inizio.